Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sto ancora qui che smalito questa mad chance E come al solito non c'ho tutto quello che mi serve per registrare Ovvio Ok, ora sto pronto Allora, allora Eriamo rimasti che io volevo fare le cose di pecora Giusto ragazzi, io ho messo qui un po' di DNA a riempire questo affare C'ho altro DNA di pecora che è uscito da qui Sinceramente non m... Vabbè sì, lo raccolgo un po' Che poi al massimo decade Quindi metto solo quello che serve Ok, sta riempiendo Allora ragazzi, ho capito come funziona Creogenic Tube Quello che va qui ragazzi, non sono uova normale Ma sono uova di... Di coso? Di villager Solo le uova di villager vanno Quindi dovrei mettere tipo le uova di villager Ma è una cosa lunga e pallosa che alla fine non dà un cazzo di ude Poi ho fatto 16 uova di Creeper Co Che sinceramente non so che cazzo farci Darmene in faccia proprio dritti in fronte e mezzo allo spacco E poi non devo fare altro che aspettare che queste pecore diventano... Blah blah Allora ragazzi, che dire Ci stiamo avvicinando alla fine della serie Io posso farci molto 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 poco ragazzi È rimasto molto poco da fare Quasi niente Ed è rimasta un'ultima cosa sinceramente che volevo fare alla fine della serie Che era nient'altro che usare il CBM Per chi sa cosa sia ragazzi Il CBM è il CBM No vabbè ragazzi Insomma dobbiamo fare una serie di autocraft lunghissimi Che ci portano alla fine ad ottenere una cosa strafica Che è la bomba antimateria Io basta che scrivo antimatter Antimatter bombo E devo cominciare a fare tutte queste cose Prendi tutto l'antimateria da un grammo Encode E su questo non c'è dubbio E poi dobbiamo fare Allora, questo nuclear explosive Encode Poi dobbiamo fare quello al centro Bam Encode E poi tutta la roba che c'è dentro Quindi chemical explosive Encode Guarda che roba strana Guardate che roba Che cazzo di crafting Encode Poi ci serve Da questo ci serve Incendiaria explosive Vai Bam Guarda che crafting Encode Poi il secchio di lava lo dovrei saper fare Questo Encode Quarta quanta roba Ok, questi li ho fatti Quelli li ho fatti Quello centrale è Doppio Doppio esplosivo Che cos'è questo? Condensed explosive Bam Encode Mamma mia quanta roba ragazzi Ok, dovrei essere quasi in grado di craftare Credo Vediamo un po' Andiamo a pagina 12 Ok, mettiamo tutti questi craft E vediamo se esce fuori qualcosa Questo non va qui Perché? Qual è il problema? Craft Un incendiario explosive Vediamo un po' Qual è il problema Qui Incendiario explosive Dov'è il problema? Scusatemi Che c'è che non va? Perché non dovrebbe Perché me lo dà rosso? Ok A caso Vabbè Non vuoi sapere Allora, ok Abbiamo tutto quello che ci serve Ah, manca solo la riserva finale Quella dell'antimateria Encode Perfetto ragazzi Vediamo quello che ci manca Andiamo subito nell'autocraft Andiamo a vedere Andiamo a vedere Questo esplosivo super atomico Che ci manca qualcosa Non so che cosa mi manca Vediamo un po' Vediamo subito Antimater Begin Ok, vediamo un po' Che gli manca Gli manca Il secchio di lava? No Perché sta facendo la polvere Non so per cosa Per il pirotero Non so che cosa sta creando Comunque gli manca il secchio di lava Ok, mi serve bucket Solo uno Stimone crafto 128 Begin Ok Mi prendo un po' Un po' di secchi Mi ho preso un po' di secchi Scusami Scusassami Ok Oddio Ho finito la lava Ho finito la lava ragazzi Non ci credo Ho finito la lava Devo andare nel nether A spostare la pompa Nether Vieni un po' qui Vieni un po' qui Nether 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 Vieni un po' qui C'è l'acqua Sì, sono pieno d'acqua Andiamo a vedere la pompa Che fine ha fatto Sono proprio curioso Di sapere che fine ha fatto Vediamo Vediamo sta pompa Uuuuh La carne è morta Già E se spavano un po' di creeper Co qui? Oh figadissima Mucca esplosive Mucca esplosive Mucca esplosive Mucca esplosive L'ha caduto Esplode tutto Pum Cazzo di idiota Basta fare l'idiota Allora Era andato qui Giusto sì Di qua Ahia Fanculo Ok Altro fuoco qui Via Ok la pompa era da ste parti Se non sbaglio Giusto? Eh si vede dove era la pompa Ragazzi È tipo esploso tutto C'è tipo una voragine Oh mio dio Guarda che buco che ha fatto Mamma mia Mi sa che ha raccolto un po' di lava Ragazzi Non vorrei Non vorrei insinuare nulla Ma qui c'è un bel po' di lava raccolta Vattene via Zombi Cavolo Ok Ok Dobbiamo cercare di recuperare tutto Almeno recuperabile Cavolo Ok Aspetta Questo mi serve Questo è indispensabile Anche questo mi serve Questo mi serve Questo mi serve Pure questo Pure questo Tutta roba che mi serve Tutto Tutto mio Tutto mio La pompa la smonto? Ha picconato la smonto la pompa Questa mia Questa pure Questa mia Questa mia Oh Siamo che vola di sotto Oh ce volo io di sotto Adesso passo Oh buono Ok questa l'ho presa Il chunk loader Oh pare che ho recuperato tutto Non ci credo mai Pensavo che Di solito la roba mi casca sempre nella lava Non so oggi cosa è cambiato È successo qualcosa oggi Ok rimediamo un po' di blocchi Perché dobbiamo farci un'altra bella pompa Blocchi 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 E la vado a mettere Sì dove si vede Se magari la mappa funzionasse Ma in settimana No con calma Che vuoi dire? Cazzo guardi Che minchia guardi? Eh vuoi botte? Se sta a far quattro con me Io ti ammazzo Coglione Ok La metto Uh figata qua sopra Ci sta da paura Ok qui le metto Devo fare il buco per le pompe Devo fare un buco quadrato Così grande enorme Dritto sopra la lava Sì però qui devo fare un po' di spazio In modo che io passo Ecco non muoio Molto tranquillo Molto carmelo Oh ma quanto è profondo Sto posto? Oh Sto per cadere di sotto Dio Ok da qui posso passare Oh guarda che figata Ho fatto il passaggio Mamma mia Ok Eh le pompe le buttiamo qui Sì Ah ok qui Ok 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 Ci siamo ci siamo ci siamo Allora Eh rimettiamo il piano Ok 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 buoni buoni Allora le pompe le mettiamo Così Un Due Tre Quattro Li devo spaccare sotto Li spacco sotto Spacco sotto Spacco sotto E spacco sotto Perfetto E richiudo Ok così sto al sicuro Eh Le pompe che bloccano Eh mamma mia Detto impianto Allora Il tesseract lo mettiamo Come abbiamo fatto Un'altra volta Tesseract al centro Blah blah Quadripompa Allora serve Fluid Conduit Per il liquido Giusto sì Ok quindi va dentro Il tesseract E ci va l'energia Ah Sto facendo l'energia qui Perfetto Un bel chunk Lodder Da 27.000 chunk Mettiamola 10 Qua ci stai sento 10 Bam E dovrebbe essere partito Vediamo un po' la lava Parte la lava No Energia arriva Pare di sì Dovrebbero partire a momenti Vabbè Io lo lascio qui Tanto il chunk è caricato Vediamo un po' come stanno messe Le pompe qui sotto Eh sono appena arrivati al punto lava Ok adesso Dovrebbero cominciare a scavare A succhiare Anzi a succhiare Eccola è partita Nice Andiamo a casa Andiamo a casa Siamo piene di lava Milioni di miliardi di lava In arrivo La 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 Il problema è che non vedo un cazzo Perché la mappa non carica Ragazzi Non ce la faccio più Questa è tutta colpa della Galacticraft Ragazzi Il pack sta per essere pubblicato E togliete assolutamente La Galacticraft Uscirà una patch in cui la tolgo Basta Via la Galacticraft Questo pack ha rovinato tutto La Galacticraft È praticamente fuori dal pack Ragazzi Attenti a quando giocate Disabilitate la ragazzi Perché fa schifo È tutta pagata Perderete i mondi Perderete tutto Io vi avverto Sarà una cosa bruttissima Togliete assolutamente La Galacticraft Ok Andiamo Ecco qui il portale Ragazzi ripeto Togliete la Galacticraft Lo ripeterò anche nel video In cui dirò che è stato pubblicato Il pack ragazzi Spero che venga pubblicato presto Almeno mi hanno detto Entro giovedì Entro giovedì di questa settimana Quindi teoria arriverà Ok Allora riempiamo questi secchi Da lava La lava Dove è la lava Dammi la lava Arriva la lava Non voglio l'acqua Voglio la lava Dammi la lava Dammi la lava La lava La lava Che sta fatta sta roba qua dentro Via via Siringhe Brutte Genomi E uova Ma che è sta roba Ok La lava Dai cazzo La stai esportando tutta sulla luna Madonna Lasciamere un goccetto Ma giusto Giusto un assaggino Dai mamma mia Oh finalmente ci siamo Dammi la lava Dammi la lava La lava Ok Siamo strapene di lava Dovrebbe partire l'autocraft Voila Ci manca Debilitation explosives Cos'è questa roba Esplosivi debilitanti addirittura Da dove sono usciti Scusatemi Incendiari Incendiari Chemical Ah sono questi al centro Debilitation Addirittura Questa recipe Non l'ho messa No Dove sto guardando Qui Dov'è Qui Debilitation Debilitation Explosives Andiamo qui Andiamo qui Debilitation Allora Questo Questo No Era dal chimico Giusto Era debilitation Ecco qua Encode Mamma mia Eh Lo metto subito dentro Ok Vediamo un po' che Se ci da qualche novità Lì giù Se è partito Dice è andato Partito sgarato Vediamo un po' Debilitation Glielo dati Mancano secchi d'acqua Bucket Mancano secchi d'acqua C'ho 106 Ma troppo preso Buono Fermate Ok Allora E secchi d'acqua Selezioniamo l'acqua 125 C'è il bucket Cominciamo a prendere acqua Come pazzi Ah perché ho staccato Le salinazioni È giusto È giusto Ok Siamo pieni di secchi d'acqua Vediamo un po' Ok Manca la TNT Because I'm TNT I'm dynamite TNT And I win of fights Dai ragazzi Solo perché sto fuori Di testa Altrimenti ne avrei mai cantato Sono proprio arrivato Stasera Stop è finita serie ragazzi Sono L'ha fatta Non voglio un'altra Non voglio un'altra L'ha fatta Non ci credo mai Ragazzi Abbiamo una bomba Antimateria Oddio Devo andare su Marte Devo andare a vedere le pecore Come stanno messe lì Su Marte Ha fatto un'altra Sì no Anti Anti Queste le lancerò Nell'ultimo episodio ragazzi Me le tengo qui Nell'inventario Nel prossimo episodio Che può darsi sia l'ultimo Non lo so ragazzi Adesso vediamo Lancerò le mie bombe Oddio Tutto il bomba Antimateria Magari riuscirò a farne anche Una terza Adesso ci provo Adesso ci provo O magari me le give O magari Sì mi metto un credit Spacco tutto Non lo so Vabbè Ok Allora vediamo un po' Come stanno le nostre pecorelle È quasi pieno Manca pochissimo Manca pochissimo Vai DNA Mancano giusto 8 ragazzi Mamma mia Le lascio finire con molta calma Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Finita 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 Lo prendo Lo prendo Allora Adesso devo unire la mocca Con la pecora E non va Raga non va Non mi dico che manca la corrente La corrente c'è là Perché non va raga Perché non si scalda Perché la temperatura è così bassa Io lo smonto So fare Non mi fido di sto coso Sembra un po' tarocco Come sembra Ma si smonta Si si è smontato Ok Rimetti Ah perché devo mettere quella vuota Ah Devo mettere l'empty data reel Allora Dello Allora Dello Allora L'empty data reel È qui E volà Manca tutto Manca tutto E slide Slimeball Non ce l'ho Raga io non ho slimeball Che c'è Are you fucking kidding me Are you serious Oh come on man Oh no That cannot be true That cannot be true That's unbelievable Eh come le facciamo le slimeball Io non ce l'ho mica Eh Eh no Eh le altre slimeball che avevo Dove cazzo le ho prese Eh No Ho finito le slimeball No Eh le slimeball che io avevo Dove le ho prese ragazzi Non ne ho la minima idea Ho trovato qualche slime in giro Cioè sulla mappa c'è il bioma Della Sì Sulla mappa c'è il bioma Andiamo a vedere quel bioma Andiamo a vedere quel bioma Se c'è qualche slime Andate notte È ora È periodo È periodo delle coltivazioni Mamma mia Mie tank Quante avventure abbiamo passato insieme Mie tank Quante cose avremmo dovuto fare Eh già Eh già Eh già Allora vediamo un po' Allora Allora Qui c'è la zona Quella Quella piovosa Quella Eccola qui Quella tutta spontanata Ci dovrebbero essere tutte le slime Appiccicose Teoria eh Vediamo un po' Se c'è qualche pezzo di slime Qui in giro Vediamo eh Vediamo se c'è qualche pezzo di slime Ci sono gli zombie Le galline E E Le api E E E i polli E E E E E E Pezzo di zero Le mie slime Dammele tutte Ok ce l'ho Ok si torna a casa Si torna a casa Si torna a casa Si torna a casa Vola 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 L'ape maia Ah no aspetta Era l'ape maia Vola 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 L'ape maia Si Ho detto bene O era la paperella Vola 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 No era l'ape maia Che cazzo dico la paperella Ma come mi viene in testa Ok Dove cazzo è casa Lo sto perso Lo sto perso Ah per di là Mi sono perso Ah per di là Oh mi serve un passaggio Fammi entrare qui Mi serve un passaggio Eccolo qui Passeggiato Andato Allora 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 Questo lo metto qui dentro E si dovrebbe duplicare Giusto Bam Bam Le slime Adesso dimmi che non c'è i pezzi Cazzo spacco tutto Ok Oh quante mani sta da Bono Ah ne sta già importando di su Ah è vero ne importava Ho fatto tutto l'impianto P Ah Let's kill ragazzi Chi non si ricorda quell'impianto Se va a rivedere il vecchio episodio Perché non lo sto a rispiegare adesso Eh te pare Ok Questo va qui E via Siamo su Marte Allora Devo graftare quegli affari strani Che erano i scocciati Lo scotch 5 6 Me ne serve Giusto Giusto Una specie mai creata Mai esistita su questo mondo Guarda come lavora Che strano Oh mi sta a far venire mal di testa Oh carmateo Ti dico fermate Ragazzi ci vediamo troppo Ok Sta per uscire la nuova razza Ragazzi vediamo che cosa Ahia Ahia Moio che cos'è Ossigeno 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 Cazzo Ma no Che bello sto rifornimento immediato di ossigeno Ragazzi è troppo bello sto impianto Ok Vediamo un po' Vediamo un po' la nuova razza Dov'è Dov'è La metto qui Insieme a delle uova Egg E creo una nuova razza Tadadadam Progresso 1% Ragazzi Allora abbiamo il creeper Il creeper co E abbiamo il Woolly co Possiamo anche duplicare tutto ragazzi Potrei replicare mucche o pecore Potrei fare La farm di spawn di pecore Cioè cose assurde E noi stiamo creando la mucca pecora Mamma mia Immaginate una pecora Che puoi prendere il latte Cioè Da fuck E si riproduce col grano Cioè Best Best animale ever Tipo Ok Sta facendo ragazzi Diamogli un po' di tempo Diamogli un po' di tempo Ok forse ci siamo Forse ci siamo Sì Abbiamo le nostre Mucche lanuginose Come è fatto una mucca lanuginosa ragazzi No Devo provarla Vado No Non ci credo mai Non ci credo mai Che cos'è questo coso No Sto muovendo soffocato E manco lo studio Aspetta 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 Saffarinetti ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo No Me ne serve un'altra Ce l'avevo Ce l'avevo Ma quanto sono strane Queste mucche lanuginose No Te dico L'ho messa dentro Oh l'ho messa dentro No 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 ragazzi Bellissima sta foto No GG GG Basta C'ho le mucche lanuginose In safarinet Quanto sto epiche Mamma mia I love you mucche lanuginose Ok ragazzi Lasciamo questa replicare Le mucche lanuginose GG Ragazzi per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo Che sarà stasera Che forse è l'ultimo In cui andrò a fare esplodere Queste bomba antimateria E vi darò più informazioni Riguardo la prossima serie E il pack Quando vi era rilasciato Io sto aspettando Che quelli stronzi Della FTP Mi rispondano Però Sono dettagli Vabbè ragazzi Ciao a tutti Spero che vi sia piaciuta La nuova razza Mucca pecora Che è tipo una cosa strana Mucca pecora Fighissima Ciao a tutti Buona visione Con i prossimi video Ciao ciao